Abbiamo parlato di aspettarci il peggio ed è arrivato il peggio. È stata una partita estremamente fisica come ce l'avevamo detto. La nostra ambizione era quella di combattere la loro fisicità con alta fisicità. Ci siamo riusciti e abbiamo portato il risultato a casa. Quando abbiamo subito la meta, andare immediatamente di là e fare un'altra meta. Quello è stato il momento chiave della partita. Abbiamo dimostrato una reazione, non abbiamo abbassato la testa ma abbiamo preso fiducia e li abbiamo guardati ancora in faccia e abbiamo lottato per 80 minuti. Ho portato a casa la storia. Quando tutti guarderanno i risultati della prima vittoria dell'Italia contro Sudafrica, che mi auguro non sia l'ultima, ci sarà il mio nome. Questa è una cosa indelebile che mi rimarrà. Per le cose negative le guardo domani. È stata una settimana intensa dove abbiamo lavorato tutti bene. Adesso fammi staccare dal rugby e fammi godere questa vittoria. Grazie a tutti.